Non aspetta, abbiamo una sorpresa per il nostro Massimo Davvero? E che sorpresa è? Massimo sarà il nostro guagliante di Rimpi Adesso! Massimo, che onore! Vai Massimo, la parrucca! E' così, come sto? Bene, ho sentito segnato di essere guagliante di Rimpi Non ho capito? E mi servirebbe qualcosa, potete vedere dei film Non so che cosa il programma Ciao! Chi ha avuto questa bellante idea? Un nome a caso? Subito ti hanno cantato E' sicuramente stata anche colpa tua Sicuramente è stato anche colpa tua Allora